Ieri, come vi porto appunto l'articolo sul giornale, è stata la giornata mondiale della povertà. Così il Papa Francesco ha voluto pranzare con 1500 poveri. Ecco, questo è l'aspetto ufficiale e pubblico della povertà che è stata festeggiata ieri. Ma la parte più importante della povertà è quella che ho scritto, che ho voluto scrivere proprio ieri, 17 domenica. Ecco, il 17 è il giorno sfortunato, come viene ritorno a molti, e come ho scritto sul titolo del post, la povertà è la più grande sfortuna che ci può essere e che può vivere una persona o subire una persona. Così ho raccontato nel post quello che è difficile poter raccontare con delle semplici parole. Ma vediamo. Ecco, questo è l'inizio del post e il cui titolo, come ho detto prima, è La povertà è una grande sfortuna. Si può dire che la povertà ai tempi nostri è una grande sfortuna. E qua entriamo nel post, per capire meglio. Ecco, siamo entrati. Poche parole per introdurre quello che poi vedremo. Si può dire che la povertà ai tempi nostri è una grande sfortuna. La vita del povero è simile ad una strada sterrata priva di alberi, prati e fiori, sotto un cielo sempre grigio. Difficile spiegare cosa sia la povertà solo con delle parole, motivo per cui ho raccolto su una playlist diversi video che raccontano come la povertà sia veramente brutta, umidiante, triste, amara e soprattutto distruttiva. Ecco, vediamo allora il post dove mi soffermo, subito dopo quello che ho appena detto, dicendo cosa sarebbe un mondo senza la povertà? Un gran bel posto dove tutti sarebbero felici di vivere. Ecco, dopo questa breve introduzione faccio presente nel prosseguo del post che dico che purtroppo al mondo la povertà c'è da sempre ed è la peggior manattia delle società. E qua iniziano appunto i video, come ho detto, che sono più validi di tante parole. E il titolo del primo video è questo, la povertà è un cielo senza sole. Per chiunque voglia vedere il video basta che va sul post il cui link lo metto sotto il video stesso e potrà vedere direttamente il video senza fatica e capire soprattutto. Il titolo del video successivo è questo se sei povero non hai una vita. Ovviamente poi viene spiegato nei video tutto. La povertà è una maledizione.